Buongiorno a tutti, buongiorno, penso di essere in diretta, non lo so. Ok, allora, mi presento, io sono Andrea Piermattei, sono ormai un ex ballerino del teatro alla Scala, sono un collaboratore di Roberto, spesso stanno con lui, di Ball & Friends, dove appunto anche lì do la lezione, lo aiuto anche per il Festival on Dance, e niente, sono anche colui che ha fatto l'applicazione Ballet Class, che è l'applicazione che useremo oggi per le musiche, che spero che vi piaccia. Che lezione faremo? Allora, faremo una lezione abbastanza tranquilla, però sarà comunque una lezione abbastanza impegnativa, perché appunto Roberto mi ha chiesto di fare una lezione di livello professionale. Se è troppo difficile, se è troppo difficile, semplificatela, nei tempi sarà abbastanza tranquilla, semplificatela, mi raccomando, non vi fate male, state attenti in casa, siamo tutti quanti, io sono qua in camera di mia figlia, attaccatevi dove potete, io ho fatto una sbarra arrangiata, fatta con le sponi del letto, e quindi ecco, niente, passiamo bene questa ora insieme. Un'ultima cosa che vi devo dire, se condividete poi le storie su Instagram, ricordatevi di mettere gli hashtag di OnDance, che sono appunto OnDance, accendiamo la danza, io danzo a casa. Ok? Bene, credo di aver detto tutto, vi saluto tutti, salutiamo anche Roberto, che penso che ci stia vedendo anche lui. Ok, partiamo. Allora, sì, ecco, la musica, spero che si senta sia, sarà un compromesso di volume tra il volume della musica e il volume della mia voce, se non mi sentite ditemelo, cercherò di leggere velocemente i commenti. Allora, iniziamo. Due mani alla sbarra, e facciamo. Tandiu avanti, flex, punta, pronti diciamo seconda. Flex, punta, e due. Tandiu, e tangiu avanti, e dietro. Avanti, seconda, plie, porte bra, e prima. E avanti, flex. E sette, e otto, tangiu avanti, dietro, avanti, plie, seconda, plie, porte bra, e poi tutto dietro, dietro, e flex, punta, seconda, e flex, seconda, due, tangiu, tangiu dietro, avanti, plie, dietro, seconda. Questa volta andiamo invece in prima posizione, cambrè, e torno, e dietro, stessa cosa, chiude, cambrè. Poi dopo facciamo in porte bra, uno, due, tre, due mani alla sbarra, solo la parte superiore del corpo, cinque, sei, sette, otto. Andiamo in parallelo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, tutta a sinistra, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ok? Va bene, partiamo, scendiamo. Pronti? Due mani alla sbarra, un troppo basso, un secondo, allora. Ok, andiamo. E, avanti, flex, avanti, seconda, flex, seconda, e due, tanghio, avanti, dietro, avanti, pie, front, seconda, pie, ordebra, torna, sinistra, avanti, dritto il corpo, bene il corpo sulle, sui vostri fianchi, con seconda, e flex, punta, due, tanghio, avanti, dietro, pie, seconda, e pie, ordebra, dietro, 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 flex, punta, seconda, flex, punta, due, tanghio, dietro, avanti, pie, seconda, e prima, ordebra, cambra, dietro, due, tre, prima, sinistra, e dietro, flex, punta, gira, flex, e due, e due, tanghio, dietro, 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 avanti, dietro, pie, seconda, prima, cambra, testa, sinistra, e torna, torna, uno, due, tre, domanda la sbarra, quattro, solo la parte superiore del coso, sette, otto, parallelo, uno, due, allunga, allunga fino a giù, naso sul ciotico, e torna su, due, tre, sinistra, e uno, due, tre, domanda la sbarra, e cinque, sei, sette, otto, parallelo, uno, due, e allunga, 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 torna, e su, ok, molto bene, allora, sentite la musica? Spero che sì, ok, 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 allora, andiamo con i plie, va bene? Facciamo, plie, stendo, plie, stendo, gran plie, torna su, porto e brava avanti, braccio basso, porto e brava dietro, e seconda, plie, plie, gran plie, porto e brava verso la sbarra, quarta posizione, due demi-plie, un gran plie, un gran plie, porto e brava avanti, verso la sbarra, dietro, verso il centro, tutto rondo, e quinta, plie, plie, gran plie, dall'esterno, dietro, sbarra, avanti, su, equilibrio, ok, va bene, va bene, va bene, allora, ragazzi, auguri Roberto, fate tutti gli auguri, vai, 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 schiacciate, 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 oggi è il suo compleanno, bene, bene, ok, adesso torniamo a fare le persone serie, auguri Roberto, e andiamo col plie, e un attimo solo, pronti, ok? ok? e, plie, stem, plie, stem, e, gra, plie, torna, e, volverlo avanti, torna su, e, gambe dietro, torna, seconda, posizione, plie, stem, plie, stem, e, gra, plie, torna, forte brava, seconda, uno, due, tre, quattro, verso l'esterno, cinque, sei, sette, punta, quarta posizione, e, plie, plie, morbido ragazzi, scambiamoci bene, e, uno, due, tre, e, quattro, e, bordo e brava, avanti, due, tre, verso la sbarra, verso dietro, seconda, punta, e, punta, e, morbido, step, e, gra, plie, e, cambra dietro, due, verso la sbarra, uno, quattro, avanti, cinque, sei, e, su, e, stai, tenete bene dentro la pancia, state sopra di voi, tenete bene, equilibrio, e, giù le spalle, e, giù, ok, bene, andiamo a sinistra, sentite la musica, ciao ragazzi, ciao a tutti, sentite la musica, ditemi di sì o no, sì, speriamo, andiamo, pronto, andiamo a destra, perfetto, grazie, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, e, cinque, sei, sette, otto, forte, brava, avanti, morbido, scaldiamoci bene, con calma, braccio basso, se volete, allunga, cambra, e, ritorna, seconda, e, uno, step, uno, step, e, uno, gran piego, due, tre, quattro, volete, brava, verso la sbarra, due, tre, quattro, verso il centro, cinque, sei, sette, quarta, morbido, e, uno, due, tre, quattro, e, uno, due, tre, quattro, e, uno, e, uno, uno, 3 4 1 2 3 4 5 8 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 15 16 16 18 19 20 20 20 21 21 22 21 22 22 22 22 22 22 23 23 22 22 23 23 24 25 25 26 26 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 32 32 33 35 35 36 35 37 37 38 38 38 38 38 39 39 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29, 30, 22, 23, 24, 26, 28, already on camera, 22, 23, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 29, 30, 29, 30, 21, 22, 24,やめ relates to every single on camera, 22, 25, 27, 28, 30, 27, 28, 30, 31, 28, 29, 31, 25, bal. esce, plie, quarta, su, due, seconda, prima, plie, esce, plie, torna, e due, bene, bene sulle vostre gambe, uno, due, e plie, esce, plie, ad ollo, su, e due, e prima, uno, lento, due, veloce, plie, re, stiamo in breve, stai, 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 tutta una fase, balance, uno, due, tre, quattro, mollate, cinque, sette, sette, otto sulle braccia, e uno, senza toccare la barra, e seconda, e su, plie, stendo, va bene? Bene, vediamo Tandiu, in quinta, in tre quarti, ve lo faccio vedere, due, tre, quattro, e uno, due, tagliere, torna indietro, quattro tagliere in croce, uno, due, tre, quattro, quattro alla seconda, uno, due, tre, quattro, retira avanti, stacca, dietro, chiude, e, e, uno, assaggiate, tutto legato, e avanti, e seconda, e in quattro, quattro seconda, due, tre, quattro, dietro, avanti, chiude il giro, assi, sinistra, e facciamo ancora tutto a sinistra, ok? Molto semplicemente, ci sono due Tandiu avanti, Tandiu ritorna, quattro Tandiu in croce, quattro alla seconda, passe, dietro, tutto dietro, e poi si gira a sinistra, tutto legato, ok? Questo è un Tandiu morbido, tutto legato, scaldate bene le articolazioni, piedi, chiudete le quinte, andiamo, pronti? e, uno, due, tre, quattro, scaldate, sei, quattro alla seconda, passe, stacca, così provate già il balance, chiude dietro, e, uno, uno, quattro alla seconda, uno, due, tre, quattro, passe dietro, che va avanti, e chiude sul penì, e, e, uno, due, Tandiu, 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 e, e in croce, due, dietro, tre, quattro, e, uno, due, tre, quattro, passe, le tira avanti, dietro, chiudi, ok? E, ultimo, vai, resistente, e, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, passe, stai, provate il balance, state dritti col fianco, attenzione a fare questo, 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 state bene sopra, il peso del corpo è già sulle dita, ok? Pelle, sui vomiti, non fate questo, che sennò non funziona la schiena, tenete bene sui vomiti, molto bene, prossimo, Tandiu, sempre in quinta, un po' più veloce, ok? Ve lo faccio vedere, un tanto avanti, uno, due, adesso due veloci, uno, due, seconda, stessa cosa, uno, e, due, adesso, dietro, seconda, cloche, cloche, quinta, prima, prima, quinta, e, e, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, e, avanti, seconda, e, cloche, cloche, quinta, prima, prima, quinta, e, stai, una frase per voi, per fare un po' di stretching, allungarci, allungarvi alla sbarra, quello che desiderate, ok? Chiaro? Quindi, uno lento, due veloci, uno lento, due veloci, adesso, uno, dietro, uno, seconda, e, cloche, cloche, quinta, prima, prima, quinta, ok? Va bene? Andiamo, ragazzi, andiamo. E, a, pa, ta, ta, ya, ta, ya, ta, ta, ya, ta, dietro, seconda, e, cloche, cloche, quinta, prima, prima, quinta, tutto dietro, uno, e, due, seconda, due, avanti, seconda, cloche, prima, prima, quinta, lì, e, respirate, allungatevi, ok, bene, c'è chi ci segue da New York, a quanto pare, hai, ok, allora, pazzesco, quattrocento persone, ragazzi, quattrocento persone in sala, ve l'immaginate, va bene, allora, jetty, ok? Pronti? Due, tre, ah, no, 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 sinistra, scusate, è vero, sì, abbiamo fatto solo destra, destra, ok, sì, sì, sinistra, pronti? E, uno, e, due, e, uno, e, due, dietro, seconda, e, cloche, cloche, quinta, prima, prima, quinta, plie, stendo, uno, e, due, uno, e, due, avanti, seconda, e, cloche, cloche, quinta, prima, prima, quinta, plie, stendo, Vabbè, relax, allungatevi, strecciatevi il collo, il corpo, le gambe, vai, ok, bene, molto bene, un respiro ok getté ve lo faccio vedere 3 4 semplice 1 2 pic pic quinta seconda 1 2 pic pic quinta dietro 1 2 pic pic quinta e 1 2 3 2 1 2 pic pic quinta pic 1 2 pic pic quinta 1 2 pic pic quinta 1 2 3 stai qui alla fine di questo potete anche staccare la sbarra provare un piccolo balance in questa posizione per tenere i fianchi ruotate le gambe e state bene sulla gamba davanti chiaro ragazzi? 2 avanti 2 picchie 2 seconda 2 picchie 2 dietro 2 picchie e closh 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 deblopo indietro allunga lunga lunga 45 ragazzi mi serve un legame altissimo ok? ci stiamo ancora scaldando pronti? 2 e 1 2 pic pic quinta seconda 1 2 pic pic quinta dietro 1 2 pic pic quinta e 1 2 3 e rullo quinta 1 2 pic pic quinta e 1 2 pic pic quinta e 1 2 pic pic Ok, andiamo a sinistra, pronti, e 1, 2, pick, pick, quinta, e 1, 2, pick, pick, quinta, e 1, 2, pick, pick, quinta, e close, 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 derro, chiudo, e 1, 2, pick, quinta, 1, 2, liberate la gamba, eh ragazzi, e fate lavorare, 2, pick, 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e va, 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 va bene, non diciamo, molto semplice anche questo, 2, 3, 4, 2 rondeciano normali, e 1, 2, 1, 3, 4, stessa cosa, 5, 6, 7, 8, avanti 45 gradi, attitude seconda, attitude dietro, attitude stai, 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 e 1, 2, gran ronde, piccolo, gran ronde, e andiamo, 2, non diciamo, 2, pie, stessa, 2, ancora, e stessa, adesso, 45, attitude, ruota subito l'anca, ruota subito l'anca, e stai, stai, stai gran rom quando c'è a partire gran rom chiudo la punta e poi facciamo tutti i burle bravi li dico durante va bene? non perdiamo tempo andiamo tre quattro uno due e tre quattro non perdiamo chiudo la punta poi vebra avanti fino a giù e torna su braccio alto e dietro torna su e verso la sbarra torna su tenete gli addominali verso il centro attenzione, attenzione attenzione dritti giù la spalla allo sci scivola giù 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 allungate potete neanche così allungate tutto allunga tutto e torna su cambra dietro uno due tre arabesca piede leve stai stai dai stai e giù 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 bravi bravi non lo spero ok va bene andiamo a sinistra pronti due tre quattro quattro e uno due tre quattro c'è sei sette otto attitudini davanti lì ronda la seconda ronda indietro e stai stai allunga 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 ronda 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 lì stendo un due lì stendo dietro attitudini seconda attitudini davanti attitudini davanti allunga 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 grand ronda grand ronda chiudo quinta torna avanti uno due tre quattro e cinque sei sette torna su verso la sbarra porco bra e uno ritisi anche ragazzi spostati lì giù la spalla all'esterno anche qua corrette le braccia corpo dritto andando addietro guarda davanti a non c'è uno due tre allungatevi fate un po' di stretch quello che volete e torna su camera dietro e prima la pesca su stacca e scendi ok molto bene ok molto bene adesso facciamo i fondi ok anche questi sono semplici io vi dico il primo è non in releve il secondo è il releve se non ce la fate fate tutto a terra se volete li fate tutte e due in releve come vi sentite voi vi faccio vedere due tre quattro un fondi a terra un fondi releve col braccio alto chiudo uno due tre quattro uno due tre quattro un doppio fondi uno due un due tre chiudo tutto dietro ok quindi un fondi avanti un fondi avanti e releve chiudo cambia gamba dietro un fondi dietro un fondi dietro e releve chiudo cambia gamba un fondi seconda un fondi seconda e releve un doppio fondi un due tre chiudo un due e due ok braccio la prima volta è basso la seconda corrente è l'alto basso in arabesca basso su il doppio tre rondi alla fine facciamo passè dietro stiamo qua facciamo il balance chi se la sente può anche andare in attitudine va bene? andiamo fondi un due un due chiudo un due lasciate bene le gambe dietro e un due un due un doppio e un e due e un due tre chiudo uno due uno tre leve cambio gamba uno due uno tre leve cambio gamba uno due e uno due leve e doppio e uno due tre chiudo passè dietro stai bene aperto il burrito bene aperto la gamba stacca state bene su sette otto anche più di chi vuole state bene su mi raccomando qua questa parte lo fate sopra di voi tenete bene i compiti la schiena ok va bene riposo un secondo e lo facciamo a sinistra ok pronti fondi avanti e uno due fondi releve chiudo fondo indietro braccio piccolo fondi braccio in arabesca releve chiudo uno seconda uno seconda e un doppio alla seconda e un due tre chiudo bastoso uno due passi dietro fate bene su la gamba lì quadrati sentitevi bene staccate quando vi sentite sicuri equilibrio equilibrio che fa bene stai stai attitudine e allongi e chiudo ok bene ok andiamo al frappè il frattà è destra e sinistra collegati quindi state pronti a girare da una parte all'altra facciamo così la preparazione è lunga due e tre e quattro e uno due un due tre e uno due un due tre doppio avanti doppio seconda doppio dietro doppio seconda via passi stacca dai 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 dietro uno due uno due tre e uno due uno due tre doppio dietro seconda avanti seconda via passi e chiude sinistra e seconda due tre alla seconda adesso doppio in croce avanti seconda dietro seconda via passi stacca dietro uno due ok allora è un po' lungo mi raccomando quindi però è facile l'accominazione che sono due avanti e tre avanti due seconda tre seconda in croce doppio qui è passi stacca dalla sbarra così sentiamo se siamo sulla nostra gamba e non siamo attaccati male ok tutto dietro tutto sinistra pronti andiamo due tre quattro e due un due tre seconda uno due un due tre doppio linee bassi stacca e dietro uno due doppio dietro doppio seconda doppio avanti doppio seconda prima bassi e gira sinistra e un due un due tre e un due precisi sulla musica ta 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 ultimo dietro un due tre e seconda due un due tre doppio dietro seconda avanti seconda b e passi stai ok molto bene va bene gravi e poi siamo un attimo per questo allungo bevete bevo pure ok adagio non come me le gambe alte passi plie stendo quinta dietro passi plie stendo e quinta bene andiamo ora passi plie stendo la gamba sale ancora e chiude dietro enveloppe passi dall'altra parte se volete provare le plie anche qua ci sta e uno plie ok quindi uno plie appoggio quinta cambia gamba uno plie appoggio quinta uno plie stendo sale ancora la gamba e chiude enveloppe passe giro la sinistra l'altro passe chiudo e facciamo la sinistra ok mi testa e sinistra collegati pronti coraggio uno plie appoggio quinta passi plie dietro di con la gamba appoggio quinta passi e seconda stendo e chiudo enveloppe passe gira dall'altra parte passe chiudo sinistra uno due tre quattro uno due tre quattro uno due tre sale ancora di più la gamba chiude enveloppe passe e passe ci sta se provate balas stai 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 ok bravo va bene facciamo gramma ok abbastanza semplice faccio entrare con la musica così è più facile tra l'altro c'è un braccio alto uno lento uno e due seconda braccio qua uno e due dietro e uno e due adesso tre e uno due tre e sinistra e uno ok è molto facile uno avanti e due uno seconda e due uno dietro e due tre veloci uno due tre e gira va bene andiamo e uno e due seconda uno e due e uno e due tre e un due tre sinistra uno e due uno e due uno due tre un due tre stai molto molto bene ok adesso ultimo esercizio alla sbarra facciamo i relevi ok purtroppo dobbiamo fare tutte le cose che sono un po' sul posto perché non possiamo muoverci molto poi al centro quindi la sbarra la potenziamo un pochino ok pronti vi faccio vedere semplicissimo anche questo qua plie stendo relevé giù plie stendo relevé giù relevé 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 seconda posizione plie stendo relevé scendo plie stendo relevé scendo plie relevé solo relevé 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 cambia posizione facciamo il prima il seconda poi con piede chi vuole ragazzi se non vuole sentire se sono troppo stanchi anche niente ok io metto la musica andiamo e and plie and relevé and plie state bene col peso del corpo sulla vostra gambe plie relevé plie relevé non andate indietro relevé relevé seconda posizione e plie relevé e plie relevé plie relevé plie relevé 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 tanti indietro una gamba uno state bene bilanciati relevé già il peso del corpo sulle dita relevé relevé rimorbidi sulla sbarra relevé relevé cambia gamba e plie relevé relevé e i relevé die relevé die relevé 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 tagli finito yes molto bene adesso mi metto una bellissima musica di Chopin e ci rilassiamo tutti fatti uno stretching una spaccata questa è la musica di Chopin del prossimo disco di Ballet Class che uscirà suonato da Mladen Davizievic da poco tanto adesso ascoltate grandissime mi metto pronta eccolo ecco la Grazie a tutti. Grazie. Facciamo anche un po' di centro. Grazie a tutti. 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 e poi... Grazie a tutti. e poi... Grazie a tutti. chiudo. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grazie a tutti. Ultimo. ultimo passo. Assemble. 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 Assemble.